dunque che peccato che peccato la juve vince tra due con la roma ma clamorosamente va fuori dalla coppa italia è onestamente meritato c'è niente da dire dunque la finale sarà milan roma contro ogni pronostico cioè sembrava juve milan il pronostico più evidente sinceramente pesato moltissimo la partita in veramente brutta dell'andata e pesa tantissimo a mio avviso questo secondo tempo orrendo da parte delle juventus women perché si sono svegliate solo a tempo scaduto ha avuto un blackout veramente di quasi tutto il secondo tempo e la roma è stata brava a sfruttare purtroppo le non prime papere di giuliani perché giuliani prima aveva già cominciato a ciccare un pallone regalando a tomà una palla incredibile nel secondo te nel successivamente c'è stata la rete della roma sempre su una mezza uscita a vuoto di giuliani con sempre con tomà e poi è arrivato il gol veramente di lazaro lì veramente giuliani si è trovato la palla addosso e non è riuscita a tirarla fuori inspiegabilmente veramente proprio con la testa staccata aveva già sbagliato anche su un altro pallone alto diciamo che laura giuliani oggi proprio nisba e la cosa che mi dà più fastidio che è veramente meritata questa qualificazione della roma perché tra andate e ritorno l'andata ha dominato e alla fine l'ha deciso il 2 a 1 l'ha deciso la papera di di boatin che aveva regalato proprio paloma a tomà il gol del 2 a 1 e oggi invece due papere sono state sono costate la qualificazione perché se avete visto la juve poi nei minuti recupero in due minuti fa tre gol fa due gol vuol dire che bastava avere per dire due minuti in più di recupero e se la si poteva anche giocare vuol dire veramente la juve è talmente superiore alle avversarie che bastava solo un pizzico di voglia in più è un pizzico meno forse di presunzione che oggi c'è stata come c'è stata l'andata le due partite non hanno insegnato niente così come non aveva insegnato niente secondo me la semifinal di coppa italia dove già la roma ce l'ha messo in difficoltà la roma è un'ottima squadra io sono convinto che probabilmente la coppa italia la vinceranno loro perché sono una squadra veramente molto molto forte molto molto organizzata e la cosa mi dà fastidio perché la roma è comunque più forte della roma e ha buttato via la qualificazione data ritorno oggi migliore in campo secondo me alla fine la darei a saragama perché ha pure segnato alla fine ha fatto una gran partita e male girelli che comunque ha segnato ma ripeto malissimo oggi oggi giuliani è veramente è stata forse la giocatrice che ha deciso la coppa italia quest'anno per la juve regalando veramente troppe troppe occasioni e il calcio d'angolo nasce comunque da un po da un cross sbagliato di certorini che giuliani calcola male momenti se l'infila dentro da sola il gol di tom aveva messo il risultato già in favore della roma lì poi c'è un breakout totale siamo andati a prendere un gol il secondo gol è veramente incredibile da calcio d'angolo piazzato boh e alla fine ripeto meritatamente passa la roma non si può dire niente oggi la juve primo tempo è stata spettacolare ma non ha chiuso la partita ha trovato il gol con pedersen ma non ha ripeto non ha raddoppiato e la differenza che c'è tra la juve e il milan di ieri è che il milan di ieri comunque quando attaccato all'inizio ha fatto due gol la juve non ne ha fatti la juve ne ha fatto uno solo e ha tenuto in piedi la roma soprattutto il milan quando ha preso il gol ha reagito mentre la juve oggi quando ha preso il gol ha cominciato comunque a indietreggiare prendendo il secondo in maniera quasi identica e francamente inspiegabile inspiegabile e poi peccato perché con girelli e gama ci siamo ci siamo svegliate però troppo tardi troppo tardi e quindi passa la roma passa la roma ripeto meritatamente nel conto delle due delle due partite penso che che sia meritato così insomma pesa tantissimo il gol di tomada e l'andata e forse più di quelli di oggi però onestamente hai regalato tre gol tre gol alla roma che sono i tre gol che tre gol su quattro li hai regalati perché comunque uno si è vero c'era la difesa piazzata male ma comunque la roma ha giocato a pallone nel primo gol dell'andata ma i tre gol sono palesemente regali nostri e quindi giusto così giusto così nel calcio quando sbagli paghi migliore in campo per le bianconere ho detto saragama che è andata anche a segnare migliore in campo per la roma credo serturini che aveva fatto una partita veramente pazzesca e niente ragazzi la juve perde il suo primo trofeo quest'anno e adesso tutta 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 per il campionato bisogna cercare assolutamente di portarlo a casa prima possibile visto che comunque ormai questo trofeo è andato e quindi bisogna inseguire il tricolore perché è l'unico l'unico torneo che ci rimane da per modo di dire l'unico torneo che ci rimane perché comunque è il torneo visto che stiamo parlando del torneo più importante ma è il torneo che dobbiamo assolutamente provare a vincere perché dopo aver vinto l'ultima edizione della coppa italia finita insomma l'ultima edizione della coppa italia le ultime due supercoppe gli ultimi tre campionati purtroppo mi hanno dovuto lasciare un trofeo che è questa coppa italia mi fa male questa sconfitta perché ripeto secondo me eravamo nettamente superiori però quando approcci male le partite è giusto che vinca la squadra che ne approfitta meglio e infatti ha vinto la Roma ciao ragazzi e al prossimo video